Ciao pasticcio! Non l'avevo a disposizione Quindi me ne sono fatta abbassare Ho usato arancia, rimone e acqua Vi faccio vedere come l'ho fatta io Questa qua è tipo una ricetta Non snellente, però antiossidante E niente, spero che il video vi piaccia Io vi lascio alla ricetta di questa buonissima acqua Proprio buona E niente, noi ci vediamo al prossimo video Ciao pasticce! Ciao a tutte pasticce! Ecco qua, oggi sono qua perché voglio fare una ricetta detox Sì, quelle classiche ricette che si vedono in giro in questo momento Io non avevo a disposizione un limone in forma gna gna Quindi utilizzo questo So che non va bene, ma vabbè Io la provo così Poi comunque la farò con un limone vero Utilizzo un'arancia Come potete vedere è un'arancia enorme La taglio a metà Bene E la taglio tipo a spicchi Cioè, non a spicchi perché non sono in grado Sì, semi spicchi Dato che questa qua è tipo enorme Gli spicchi poi li suddivido Cioè, li divido ancora a metà Ovviamente l'arancia, la mia, è lavata E niente Questo è il mio contenitore Un contenitore dell'Arbalife Ma ce lo facciamo andare benissimo Scusate, messaggio Come potete vedere L'ho riempita abbastanza Ora vado ad aggiungerci l'acqua Ecco qui E ora vado ad aggiungerci il nostro limone Ok Chiudiamo Chiudiamo anche il tappino qua in alto E andiamo a posizionarla in frigo Ecco qui la nostra acqua detoxina E noi la salutiamo E ci vediamo Niente La mia ricetta sull'acqua detox Quella disintossicante E così via È fatta L'ho assaggiata È passata un giorno Eccola qua Come potete vedere L'ho assaggiata E Non è normale Se vi piace un po' l'asprigo Perché io ho assaggerato col limone Comunque Spero che Il video vi sia piaciuto So che queste Acque detox Stanno andando tantissimo E anche io Le faccio Mi adeguo Mi adeguo agli standard Se poi fan bene Ancora meglio Spero che il video vi sia piaciuto Io vi mando un bacione E vi saluto Ciao posticce Ciao